eeeh ciao a tutti ragazzi e benvenuti su fortrette stagione 1 capitolo 3 anche se non si legge molto bene quella scritta un po' nel blu però va bene comunque mi trovo qui ragazzi con il mio moderatore che si chiama guerriero indian che è proprio un indiano guardate ragazzi pure tutto nero guardatelo è un indiano lo vedete lo vedete ma ragazzi è un indiano a tutti gli effetti eeeh oggi ragazzi giocheremo un po' di gameplay qua su questa nuova season ambientiamoci un po' vediamo un po' il da farsi e cercheremo anche di fare una vittoria reale anche se sicuramente non ne faremo manco una non arriveremo manco secondi però dettagli dettagli ho macchiato con il mio microfono va bene ma comunque lui si sta facendo le unghie ma è una ma è una dai ragazzi ma se sembra uno vabbè ok ora eeeh ora no 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 non scoparli dietro di me ok non no getta quella scopa per favore che è volgare ok ora lui saluterà ora dice ciao ciao giaoo ha salutato quindi eh bello e come ben vedete è pure felice con l'arcobalera Vabbè ragazzi comunque questa qui è la stagione Molto figa devo dire la verità Mi aspettavo una roba del tipo stratosferica Però devo essere sincero Secondo me hanno fatto un ottimo lavoro L'Epic Games comunque Fa Stavo dicendo Stavo dicendo L'Epic Games fa le cose per bene Ma comunque ragazzi fiondiamoci subito In un Che sto facendo No raga ma che ho avviato No squadre no non voglio squadre Che perdiamo Ok comunque ragazzi metteremo Ovviamente la modalità duo Singolo coppia Perfetto eccola qui Devo dire hanno modificato tutto Infatti pure il menu guardate come l'hanno modificato Hanno modificato proprio tutto Guarda è tutto storto È tutto diverso raga Veramente E potevano fare tipo Potevano rimanere come era una volta Ma è tutto storto come ben vedete Però Vabbè Che ci volete fare Hanno voluto fare così Forse la community ha detto Che non si trovava con Con la roba per inviti Eccetera eccetera E quindi forse Che ne so L'hanno voluto cambiare per questo Non lo so Comunque ragazzi Comunque ragazzi lo mettete a quel disegno Me l'ha fatto proprio lui Il moderatore Guardate ragazzi Sta arrivando il Natale Tutto è nevato Guardate che bello Allora però dobbiamo La mia mappa è proprio tutta inesplorata Vabbè Buttiamoci Qui Vai A caso Sì Io mi butto sempre a caso ragazzi Quando non so dove mi devo buttare Ok Allora Mi sa Allora E E E Tutto strano C'è C'è altra gente che scende Ma è molto strano È tutto più strano ragazzi Guardate Omgine E Non mi trovo molto bene Ci sono dei tizi In delle casse Mi sa che a terra qui sopra Mi prendo subito Questo bel pompino Che ho adocchiato proprio Ok ragazzi Io sono Eh Nuove armi Nuovo tutto Ma che sta succedendo ragazzi Hanno modificato di tutto qua Aspettate Allora Sento paragatutisti Qui che Eh Ok È lui per fortuna Qua c'è una cassa Prendiamola Perché noi siamo Arraffatori di tutto Aspettate che Perfetto Abbiamo trovato un cecchino Ce lo prendiamo Prendiamoci tutto ragazzi Devo provare Le nuove armi di questo gioco Le nuove armi Che non le so Che vuole il mio Amico Non c'ho niente Cerca le casse C'è una cassa Là sopra Non lo so Maledetto il mio amico Che vuole rubare Le robe da me Vabbè ragazzi Comunque Devo dire la verità Questo fucile Spara bene Devo dire la verità Molto figa La stagione La stagione Ma che è Ma che è Ma che è Sta musica Tutta Tutta della madonna Tutta ambientata Vabbè Comunque Raga C'è 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 Ci sono Spari Io ritornerei Dentro Per un attimo Calmare la situazione Che poi la cosa è bella Ho notato Prendiamoci Tanto sto fucile La cosa Nicola Sai che puoi scivolare Posso scivolare No Non lo so Guardami Come scivolo Come faccio Ma come faccio Devi premere R2 Quando corri Oh La madonna R3 R3 Ma Ma che cos'è Ragazzi Ma che cos'è Guarda Mi è diventato un code Ragazzi Hanno trasformato L'hanno trasformato A tirare un code Ma non è giusto Guardali Queste delle epic Che copiano pure le idee Maledetti Allora ragazzi Andrei a pushare No Però è difficile Perché tipo Io ero abituata A premerlo Premerlo Forte Hanno buttato Una gra E la madonna Allora Andrei in questa casa Anche se so Che c'è gente Ok C'è una roba Che me la prendo Perché Non lo so Me la prendo C'è c'è del mattone Allora Eccoli ragazzi Le persone Metto qua Ecco Dietro il bancone Come i rapinatori Che puoi dare notare Che pure Uno sparare Attenzione Attenzione Vai fuoco Fuoco le polveri Ma c'è il suo amico Tutto Per fatto ragazzi Ci troviamo in questa Nuova lobby Perché con la di prima È andata veramente Una schifezza E stavolta ragazzi Ci buttiamo Non lo so Consiglia tu un posto Moderatore Vai Consiglia tu un posto Che tu Vabbè si butta così Ma io non lo so Vabbè lo seguo Dove 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 Lì Ma dove vuole andare Ah Bene Moriremo malamente Ma quella è tipo Una pinnaculi E vedo un po' Di paracaduti Attorno a noi Non Non Mi sa che moriremo male Ehm Ok Ehm Ok Ehm Ok Ragazzi Non voglio morire male Quindi vi sbrighiamoci A raccattare Ok Già tanto che abbiamo trovato Stamitra E io Ok Non c'è un materiale Devo costruire Devo costruire Sono fatto per costruire Ma non posso costruire Ok Devo andare assolutamente Ragazzi qui sopra Perché voi direte Beh perché Allora c'è gente Dappertutto C'è una cassa Leggendaria Ora ho capito Perché i ragazzi Stanno Ho trovato La cassa Leggendaria Raga Vediamo Ok c'era un'arma Non lo so Ok La situazione Allora Ci sono questi nemici Io andrei qui Eccolo 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 Ok Vai Ok Questo qua Ci sta conducendo Il suo amico Aspettate raga Che birra Che birra Che c'ho Io l'ho levato Tutta la vita Però mi ha ucciso Comunque Ma comunque C'è tipo La velocità Aumentata Ok Quando stai a terra Ah Non ce la faccio più Ragazzi Questo fortnite Mi sta uccidendo Io non lo so Perché mi ho obbligato A fare i video Su questo gioco E non so neanche Perché ci ho shoppato Vai sopra Però ragazzi L'ho fatto solamente Per non sembrare Rabbo Va bene Ok Ehm Dove ci buttiamo Maledizione Allora ragazzi Questo Ho scoperto La zona Allora Stavolta ragazzi Ci buttiamo Sulle montagne Come i montanari Va a far porcello Eh Ci buttiamo Come i montanari Ragazzi Che madre di Dios Stanno sulle montagne Al freddo Allora Guardate ragazzi Là ci sta la statua Di Di The Rock La The Rock Dentro Avete capito Ragazzi The Rock Che ormai pure lui È diventato famoso Perché Sta là dentro Mannaggia The Rock Mannaggia Allora Il palazzo Dove sta il palazzo Questo palazzo qua Allora C'è gente Secondo me Tanta gente Allora Io mi Io mi lancio qua Se non c'è un'arma Mi arrabbio Cessa subito Al volo Grazie Fortlet Cosa Ma perché Nuovo livello Ho aperto Oh Là la tenda Dove stanno I nemici C'è qualcuno qua dentro Ah no Era Era quella roba Allora 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 Sto sentendo sparare Quindi mi sa che devo aiutare Un attimo il mio amicio Butto le granate Nella casa Ragazzi Perché sicuramente Ci sarà qualcuno Ovvero Credo di sì Però Questo qualcuno Non si fa vedere Bobune Bobune Ci sono corvi Ho massato Oh ragazzi Ho trovato Un'arma Dove minuti Corvi Ok Sto arrivando Da te Ragazzi Fatemi provare Un attimo Questo fucile Ah Tipo Allora Io butto Butto questo Butto questo C'è uno C'è uno Andiamola a pushare Vai aggressivi Aggressivi Me 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 ne frega niente Ragazzi No Ok Almeno Almeno Facciamo vedere Qualcosa Agli iscritti Bene ragazzi Stiamo saltando Questa nuova partita Che ovviamente Andrà male Allora Metti il punto Dove sta Spider-Man Ragazzi Ci buttiamo Dove sta lui Proprio lo andiamo A paccheriare male Spider-Man Al nostro Peter Park Dove Andiamo 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 Signor Spider-Man 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 Stiamo arrivando Spider-Man Spuderman 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 Ragazzi Maledetto Ragazzi Andremo A rubare Il potere Di Spuderman Perfetto Ragazzi Siamo Arrivati Qui Da Spuderman Come ben Vedete Ci sono Un sacco Di Ragnatele Ma io Voglio Vedere Il nostro Spuderman Ragazzi Non c'è Ancora Dove Lo mettere No Ci stavo Sperando Lo metteranno Ma quando Lo metteranno Io non ci sarò Perché Voi direte Perché Perché Dai Ho sprecato Materiale Bravo Me Allora Ragazzi Ui Ui Ragazzi Ragazzi Ma che è oggi Tutte le casse Leggeterebbe Dammi qualcosa Che non dico niente Allora Ragazzi Io bevo Una bella Pozione Di questa Il succo Di nonno Gianne Mamma mia Allora Ora però Devo dare Qualcosa Al nostro Tipo Se vado Sulla regna Rimbalzo Rimbalzo No Basta Ma è un Parkour No Ragazzi Aspettate È un Parkour Poi da qua Vado là Sì È una specie Di parkour Dai Allora Però No Ma ci muoio Ah no C'ho pure L'invincibilità Vieni qua Vieni qua Vieni qua Ecco Tieni Prendiamo ragazzi Questo cecchino Che ci potrebbe fare Comodo In alcuni casi Comunque ragazzi Non ci è venuto Nessuno Da Sputerman Come si permettono Io sono un appassionato Di Spider Ma raga Quella guardata Quando ero piccolo Uh 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 My friend Ma quante casse ci sono Pure sul cesso Ci sono le casse Ragazzi Ma che cos'è Mentina Le mentine Mmm Queste qui ragazzi Ti curano Alla grande Uh Uh No Grazie Non mi serve C'ho già le mie mentine Andiamo a raccattare Altra roba Che cos'è questo Allora Visto che non c'ho Un fucile Da lontano Prenderò Lo prenderò Allora Oh Meglio questo Allora Qua c'è un'altra roba Prendila tu Che può Far comodo Tu sei quello che porta Le cure Ok perfetto Andiamo ragazzi Sul tetto A vedere un po' Cosa ci Ci aspetta Ok Un'altra roba Di queste Ok Qui c'è una jump Ok Qui spacchiamo Tutto Ok Poi Andiamo da questa parte Non c'è niente Vabbè ragazzi Sapete qualcosa Anzi Non sapete una cosa Noi ragazzi Ce ne andremo da qui Io voglio andare Mi sento sparare più là Io non ci credo Almeno Ho mancato la ragnatela Ti ho rialibato Vieni Coraggio Vieni Dobbiamo andare Bravo Spacca i vetri Della macchina Ti sei seduta Anche dietro Stile taxi Ma pure con la macchina Rimbalzi Non lo sapevo Che tra l'altro Le macchine Qui sul rocket C'hanno un'abilità Che è quella Di andare Sull'acqua Ragazzi Siete pronti Bene Mi ha fatto uscire No ragazzi Ma è rimasto dietro Questo mio amico Oh Oh Nuova macchina Nuova macchina Andiamo Guardate ragazzi Le macchine C'hanno il potere Di No copyright Copyright Aspettate No sono sceso Ma sta affondando La macchina Con la stramica Dentro Vabbè è andato Ormai È andato ragazzi Dobbiamo cavarcela Con le ragnatele Però prima Che cos'è quello Vabbè No ragazzi Basta Non voglio più Non voglio più Wow Che brutto Nia Guarda come si chiudeva La radio Radio si radio no Radio spenta Bip bip Mamma mia Ragazzi Guardate Tutto sire natalizio Ragazzi Facciamo irruzione Vai Sei pronta A sparare Daniele Here we go Vai Vai Spostate Qui C'è spazio Solo per noi No per voi Mamma mia Ragazzi Abbiamo fatto Una pusciata Della madonna Attenzione Ce n'è uno lì Non l'ho preso Dai Ok è morto Sì Se lo sta portando L'acqua Come è giusto Che sia Ok c'è il suo amico Lì Uccidi Amico Ok Eccolo Attento Daniele Ok perfetto Le nostre kill Ragazzi Ce le abbiamo fatte Ho bisogno però Di un po' di scudo Questo che c'aveva Oh Ma che cos'è Oh no La safe C'ho una jump Ragazzi C'ho una jump Niente paura No Fammela mettere Fammela mettere Calobessa Vai vai Ma babbia ragazzi Non voglio morirci Abbiamo fatto Delle pusciate Che proprio Buonissime E morire così Sinceramente A me non mi sta bene Mettiamoci un po' di spray Addosso Un po' di mentina Mamma mia Ne bisogna un po'? Tieni Bevi A me se mi dai un po' di scudo Grazie Mamma mia ragazzi Guardate che team che siamo Noi ci aiutiamo a vicenda Noi siamo guerrieri Indiani Te lo posso spruzzare a testa Perfetto Ora dammela a me le mentine Perché Ah le puoi spruzzare anche addosso Ok va bene Io te l'ho data Perché pensavo che non si poteva Ok ragazzi Andiamo in giro a cercare Due abidevici Oh Ci sono le lupi No Scappa in quella casa Presto Maledetto Prendi le cosciotte Che ci possono far comodo Bravo Così si fa ragazzi Comunque Fortnite sta diventando Un code Un code Un code Ma veramente un code Perché guarda Il mirror è di prima persona Allora ragazzi Continuiamo Lì c'è una casa Che vorrei esplorare Però non esploreremo Perché comunque Ce l'abbiamo in Lutz Qui ci sono sicuramente Qui ci sono sicuramente Di nemici Mi piace l'idea che hanno messo questi Questi C'è una macchina Cammina a basso C'è una macchina Cammina a basso Non farti vedere Se ci vedono ci pushano Vedi che c'è un po' Il fiato Non si vede il fiato Si infatti è molto figa Figa Vabbè io sono figa Perché si Perfetto ragazzi Stiamo raccogliendo un po' di funghi A caccia di funghi A caccia di funghi ragazzi Noi siamo proprio funghisti Contro i funghi noi Manca uno zaino Ragazzi c'è un polaster Vieni qui signor polaster Fatti prendere Prendilo prendilo Come posso Vieni qui Vieni qui maledetto Non ti sparo No Signora gallina Signora gallina Fammelo prendere a me Così faccio vedere gli script Signora gallina Si fermi Si fermi Signora gallina Signora gallina Qui è la polizia Perfetto Vai ragazzi Oh yes Pocco te Pocco te Gallina Ci sarei molto utile Ma qua Come qua Come qua Ragazzi noi ci fruttiamo gli animali Perché siamo animalisti Sto scherzando ragazzi Guardate la gallina Ok Però signora gallina Mi sa che la metterò giù ora C'è una macchina C'è una macchina Sta arrivando dalla safe Mi sa che entreranno Mi sa che entreranno dentro qui Dai signora gallina Si calmi con noi assicuro Vieni sopra Si sono fermati Eccoli 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 Vai ragazzi Un agguato Gli facciamo Un agguato Tu ti vedi Dove si trova? Ok Un po' di mentine Vai 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 Mamma mia Ho visto Il pollo Mi sono spaventato Ragazzi Mi devo curare Ok ragazzi Ho bisogno anche di questo scudo No Oh no ragazzi Oh no Il mio amico Il mio amico mi ha tradito No ragazzi No 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 Devo prendere queste Non rubarmi il pompa Maledetto 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 Non rubarmi il pompa Questo mi serve Apri 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 presto Che li facciamo fuori Mamma mia ragazzi Noi siamo veramente Oh dobbiamo andare in safe Io Io inizierei un po' a scendere Sinceramente Ok Ma stanno riavviando Maledetti Ma non ci andremo Lo sapete perché ragazzi Perché è troppo lontano C'ho la jump La userò nel momento Più opportuno Hanno riavviato Per scappare da loro Non ci riusciamo Cinghiale Signor cinghiale Non ci uccida Oddio ragazzi C'è un altro lì di cinghiale Nasconditi Nasconditi Mamma mia Non muoverti Scappa Metti la jump Cinghialotto No Come ho saltato Cinghialotto Metti la jump Ragazzi Non me la metti Maledizione No Oh no Oh no Oh no Scendi Scendi Qui giù Scendi Stiamo vicini Come metti il ruolo Metti la jump Non me la metti Non è arrivati Non è arrivati Metti Metti la jump Non me la metti Lo stai operando Non me la metti No Come la metti Si Ecco La messa La messa La messa Me la messa No amico Amico no Non morire Eccomi Eccomi Dobbiamo scappare Scappa Io c'ho pochissima vita Mamma mia ragazzi Questo game dai Lo stiamo facendo Abbastanza bene O come è che stai Ricoprendo vita Io non c'ho cure Dammi vieni qua Te vedo io Sono praticamente morto Tengo la carne Tengo la carne Vieni qui presto Sotto gli alberi Dove non si possono vedere Dov'è la carne Dov'è la carne Ho fame Dammi la carne Me la mangio pure È cruda Non c'è problema Che cecchinata Portami via da qui Amico Bravo Oddio ragazzi Guardate Guardate come cammino Veluce No Dai sono a quattro zampe A terra Amico Amico Stop Ti stai pensando che siamo vivi Perfetto ragazzi Anche se c'ho poca vita Io ce la farò Almeno credo Ho sparato per sbaglio Volevo sparare Attento Eccolo che nel cettino Non ti mettere l'avanti Sta proprio quella torre enorme Devo andare Devo andare No Eccolo Aperta Oh vieni qua Vieni qua Aspetta 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 Vieni sopra A poco Attento amicio Attento Attento E' distratto E' distratto E' distratto Sta curando Ok Ah Mi hanno sparato Sta venendo uno Corami 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 Non posso Moriremo amico Però è stato un bel game Oh no Da sopra Nicola sopra No No Dai però siamo arrivati quarti Veramente Cioè ragazzi E' stato veramente un bel gameplay Spero che questo video vi sia piaciuto Durante 35 minuti Però ragazzi Veramente E' stato Very good Noi ragazzi ci vediamo in un prossimo video Ciao a tutti ragazzi Saluto Daniele Ciao 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 Grazie a tutti.